Buongiorno da Gilda TV, siamo qui con il professore Raffaele Salamone Megna, autore di alcune riflessioni sui diritti dei cittadini italiani e in particolare del personale della scuola. Buongiorno professore, lei ha scritto un articolo dal titolo Auto da Fe, può chiarire anche agli amici di Gilda TV il suo pensiero? Sì, sembrerà strano ma ancora oggi dobbiamo fare un Auto da Fe, ossia un atto di fede, in buona sostanza a cosa mi riferisco? La legge sulla buona scuola ha previsto un piano straordinario di assunzione per i docenti precari, articolate in più fasi, una fase 0, una fase A e poi le due fasi successive, la B e la C, che si sono fatte per via telematica, per via online. Ora le fasi 0 e le fasi A si sono tenute in maniera ordinaria presso gli uffici scolastici provinciali e regionali, per cui c'è stato un controllo piuttosto accurato di tutti gli interessati che erano presenti all'operazione, tra cui anche i vari sindacati. Le fasi B e C, come ho detto precedentemente, invece si sono svolte per via telematica, quindi mediante la piattaforma Polis ciascun candidato, ciascun aspirante ha indicato le province con un ordine di preferenza le 100 province e in ciascuno di queste province sono stati inseriti, sono stati graduati a pettine in base al proprio punteggio. Per quanto riguarda le fasi B e C, i candidati hanno ricevuto risposta sulla propria casella elettronica, quindi se sono stati o meno assunti. Ora, qual è il problema di tutta questa operazione? È che in realtà nessuno dei candidati e neanche le organizzazioni sindacali posseggono tutti i dati, ovvero sia non si conoscono le preferenze che sono state espresse dagli aspiranti. Allora questo rende di fatto impossibile alcun tipo di controllo nei confronti dell'amministrazione e quindi ci si chiede di fare un vero e proprio atto di fede sull'invalibilità del MIUR e del suo centro elettronico di calcolo, cosa che è difficile fare perché sovente il MIUR ha sbagliato in maniera anche clamorosa. Sull'algoritmo si è già occupato Gilda TV, ho seguito alcune delle vostre trasmissioni. Ora in realtà questo algoritmo è un algoritmo chiuso, quando invece dovrebbe essere aperto, noi dovremmo conoscere i vari codici di calcolo proprio per verificare, perché in fin dei conti questo piano assunzionale straordinario non è un atto di elargizione fatto a titolo grazioso dal nostro governo, ma è a tutti gli effetti una procedura concorsuale per soli titoli. Quindi affinché ciascuno possa tutelare i propri interessi legittimi, ma anche in forza di quanto dice l'articolo credo 192 della nostra Carta Costituzionale, per cui tutta l'attività dell'amministrazione pubblica deve essere imperniata di efficienza, efficace, di imparzialità, noi chiediamo ancora una volta di conoscere al Ministero i dati e di fornirci il codice di calcolo che hanno utilizzato per individuare i vincitori della fase B. Ringrazio per l'attenzione. Grazie professore, ricordiamo che per vedere e ascoltare il mondo della scuola in tempo reale basta un clic su iscriviti. Arrivederci.